Sul taglio dei parlamentari, che adesso è il referendum del 29 di marzo, sai già come voterai? Io personalmente no, so che all'interno delle sardine c'è un anche dibattito. No, non so come voterò ancora. Ancora non si è fatto l'idea? No, perché la mia vita in questo momento non mi permette di approfondire soprattutto le cose che succedono più in là di 8 o 4 giorni. Però c'è un dibattito interno e mi sembra di capire che ci sia una buona fetta schierata contro il taglio dei parlamentari. Lo direte prima? Disporrete? Se vedremo che la posizione è molto maggioritaria, quasi unanime o unanime, come spesso ci accade, perché andiamo molto più d'accordo del previsto, lo diremo.